Birra artigianale, prodotti tipici locali, l'accoppiata vincente al centro della terza edizione di birra tipica, come sempre ospitata al Giardino Buonamici grazie alla collaborazione tra provincia, strada dei vini di Carmignano e sapori tipici pratesi. I maestri birrai di Mosto Dolce, Riton, Badalà, Angel e i Due Mastri proporranno il meglio della loro produzione da degustare assieme a specialità gastronomiche rigorosamente a chilometri zero della macelleria Conti, dell'azienda agricola Corboli di Vernio, del pastificio Ferraboschi e dell'azienda Rigoccioli di Carmignano. Ci saranno delle specialità del territorio e non, come per esempio il pastificio Ferraboschi, che proporranno degli abbinamenti alle diverse tipologie di birre che ci sono, che sono veramente diverse e variegate, ma molto interessanti. La birra Ebe, che è una bionda da 4,5 gradi di puro malto d'orzo, che in lavorazione utilizziamo anche della scorza d'arancia amare e del coriandolo in infusione per aumentare proprio quello che dicevo, l'aromaticità e la possibilità di creare degli abbinamenti. E la Glencoe, che invece è una rossa doppio malto, sempre di puro malto d'orzo, da 6,5 gradi alcolici, dove è una miscela di malti molto più complessa e c'è anche del malto affumicato che aiuta a sgrassare bene, quindi si abbina anche su piatti particolarmente strutturati e importanti. Siamo onorati, prima di tutto, di questa richiesta da parte della strada dei vini, di partecipare a questa manifestazione rivolta anche a un pubblico giovane, a cui porteremo i piatti un po' tradizionali. Novità di quest'anno, la degustazione in versione extra large, che propone il nuovo bicchiere di dimensioni maggiori rispetto allo scorso anno. L'ingresso al giardino è libero, al costo di 5 euro si potrà ricevere un bicchiere da degustazione con incluse due consumazioni.